Omicidio in piena notte sul lungomare di Acitrezza, piccolo borgo marinario in provincia di Catania. Una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalà, in base alla ricostruzione degli investigatori, è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex fidanzato, che poi si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Il fatto di sangue è avvenuto mentre la giovane passeggiava in strada con degli amici, forse per fare rientro a casa, vista l'ora tarda. Sono stati loro ad allertare i soccorsi e a indicare nell'ex l'autore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del CIS, il reparto speciale di investigazioni scientifiche di Catania. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'ex fidanzato, con cui Vanessa aveva interrotto la relazione, ieri sera li si è presentato davanti chiedendo un chiarimento e le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla anche un'amica della vittima, che non è grave. La ragazza in passato aveva denunciato l'uomo per stalking. Per quel reato la procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal GIP che fosse messo agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento che la scorsa notte non ha rispettato. Per quel reato la scorsa notte non ha rispettato.